Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, sono sempre io da Marina. Oggi vi porto come recensione il manuale delle giovani marmotte, che è la ristampa. Stavo guardando la tv insieme a mio padre e a mia madre e arrivo al servizio dicendo che tornava il manuale delle giovani marmotte. Io ho detto che lo devo assolutamente prendere perché io da amante Disney l'ho sempre voluto ma non l'ho mai trovato. E quindi l'ho preso finalmente. Comunque iniziamo la recensione. Lo sfondo è giallo, la scritta Walt Disney e la scritta giovani marmotte, le manuale delle giovani marmotte in rosso. E poi c'è un'immagine di Paperino che fa il saluto e con qui qua qua, con delle mandarine con scritto ABC. E poi c'è l'erba e la stessa sommata da Giunti. Dietro così, ho messo nella copertina, sempre con l'immagine di cui qua qua è Paperino. Ed è costato 9,90 euro. Allora, all'inizio è così. C'è scritto il manuale delle giovani marmotte a cura di Mario Gentilini, riproduzione della storica prima edizione dei manuali delle giovani marmotte pubblicata nel 1969. Qua qua c'è Paperino e qui qui qua qua che fanno il saluto. Ecco, questo è l'inizio del manuale. C'è un'immagine di cui qua qua con il manuale, c'è scritto presentazione. Ehi, shh, un momento soltanto ragazzi, lo salutatemi a piapparli solo perché ho una presentazione. Io desidero semplicemente dirvi al nome dei miei autori qual è a mano ragazzi e state benvenuti. Ora il manuale del giovani marmotte è vostro. E poi, ecco, c'è un'immagine del grammo goal con la bandiera e quel po' qua è Paperino. che qui ha in mano, non so cosa, un rotolo di carta, anche Paperino, non so cosa sia. Ecco, qua inizia il manuale. Il manuale è, questo manuale è molto interessante. Ci sono cose molto interessanti. Adesso non posso fare vedere tutto, però per esempio c'è il codice, ecco qua, il codice a braccia. Questo qua è molto interessante. Tipo, questo A, B, C, D, E, F, G, insomma, tutti i codici delle lettere dell'alfabeto. E poi non capisco perché ha fatto Paperino Nero. Proprio non lo so. Poi c'è questo qua. Ecco questo. Ci sono i nodi, dare i nodi, l'unione, ecco qui, c'è scritto l'unione fa il nodo. Ci sono vari nodi da fare. Tipo c'è il semplice, il piano, un cruciato, da tonneggio, da testitore, da muratore, Savoio, laccio, gassia, diamante, scorsoio, fibbia fissa, fibbe scorrevole, a bocca di lupo, da barcaiolo. Molto interessante. Poi ci sono un sacco di altre cose molto interessanti che adesso non posso farvi vedere perché sono tantissime pagine. Niente, questa è la recensione di questo libro. Spero che il video vi sia... Spero che il video vi sia piaciuto. E niente, al prossimo video. Ciao ciao!